buonasera allora stasera faccio il pollo al profumo di arancia adesso vi faccio vedere gli ingredienti e la preparazione non è un pollo di quelli che cuociono in poco tempo è perché un pollo ruspante quindi prima di metterlo in padella lo fa ho fatto un brodo ho fatto un brodo fatto cuocere il pollo nell'acqua e negli odori per tre quarti d'ora adesso il pollo è a metà cottura e procedo alla cottura in padella ecco vedete il pollo è bollito bollito il pollo per tre quarti d'ora con gli odori adesso userò queste arance che sono biologiche userò sia la buccia grattugiata che il succo adesso vi faccio vedere la preparazione prima cosa infarinerò tutti i pezzi di pollo le cosce e le ali e li metterò a soffriggere in una padella ampia il pollo sta rosolando per bene vedete nella padella ho messo sale olio extravergine pepe e rosmarino adesso ho grattato vedete la buccia dell'arancia e ho spremuto il succo adesso vado ad aggiungere il succo adesso lascio cuocere 30 minuti se dovesse asciugare un po il fondo di cottura aggiungo aggiungo un po di brodo vegetale la scorzetta la aggiungo alla fine adesso metto il coperchio e lascio cuocere ciao 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 ciao